Un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda dello stadio Collana, chiuso al pubblico a causa del contenzioso tra la regione Campania e Laggiano. La palla è passata a Palazzo Santa Lucia e questa mattina il presidente Vincenzo De Luca ha voluto effettuare un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori svolto dai tecnici della regione che hanno cominciato l'abbattimento delle tribune. Come l'ho trovato? In uno stato vergognoso. Abbiamo appena visto le palestre e gli spogliatori. È una cosa indegna per come lo hanno lasciato. È evidente che prima di consentire l'uso per i bambini dovremmo rifare tutto, mettere in sicurezza, avere una condizione dignitosa. Poi l'attacco al governo. I 40 milioni stanziati dalla regione potrebbero non essere sufficienti per la riqualifica del Collana in caso di mancato sblocco dei fondi di sviluppo e coesione per poter portare a termine la ristrutturazione. Sono fondi rilevanti, destinati fra l'altro a mezzogiorno Italia e bloccati da un anno e mezzo. Però sia chiaro che noi questo intervento lo facciamo comunque. Quindi con buona pace del governo nazionale andremo avanti anche se ovviamente rischiamo di dover pagare con i fondi di bilancio questi 40 milioni di euro e sarebbe davvero un delitto. Procedono anche i lavori della piscina da terminare entro febbraio. Verifiche lavori necessari considerando che Palazzo Santa Lucia, dopo la vittoria del contenzioso Collagiano SRL, ex gestore dell'impianto e dopo aver riottenuto il pieno governo della struttura, aveva annunciato la ristrutturazione e la riapertura del secondo impianto sportivo più grande della città.